Ciao ragazzi, io sono Luca Borgianni e oggi vi voglio parlare di un'intervista che ho ascoltato, molto interessante. È un'intervista del campione del mondo di Ironman e del campione olimpico, quindi parliamo di Gustav Hiden e Christian Brummenfeld, che sicuramente se fate triathlon ne avete sentito parlare. Stiamo parlando del neocampione di Ironman Gustav Hiden, che ha pure siglato il nuovo record del percorso a Kona, 7 ore 40 minuti e 24 secondi, e Blummenfeld, che sicuramente l'avete conosciuto, medaglia d'oro a Tokyo, campione del mondo nell'Ironman dello scorso anno 2021, campione del mondo di mezzo Ironman 2022, insomma un palmare veramente eccezionale. Tra l'altro Christian Brummenfeld ha la miglior prestazione al debutto, 7 ore 21 minuti, tempi assurdi ragazzi. Christian Brummenfeld ha fatto anche un progetto, vi consiglio di andarlo a vedere, si chiama Sub7, in cui ha cercato di fare il miglior tempo in assoluto con l'aiuto di Lepri, Sianuotobici e Corsa, e ha chiuso l'Ironman in 6 ore 44 minuti. È un po' come il progetto di Kip Koji sotto due ore, l'hanno fatto per il Triathlon e trovate tutto in rete, è veramente un alieno. Allora, il primo aspetto di cui hanno parlato è amicizia e rivalità. No, sono due grandi amici, si allenano sempre insieme, entrambi norvecesi, e la prima domanda che gli è stata fatta è, ok, voi siete amici, ma siete rivali, vi aiutate? Allora, quello che dicono, soprattutto hanno raccontato la gara in Ironman a Kona 2022, è che fino a che possono sono alleati, ok? Fino al possibile, fino all'ultimo metro sono alleati, però dal momento che hanno fatto fuori tutti gli avversari, inizia la guerra tra di loro, quindi diciamo c'è una sorta di alleanza iniziale, poi ovviamente uno sport individuale, quindi ognuno dal meglio di sé. Però loro raccontano quanto veramente sia importante allenarsi insieme, anche se magari hanno allenamenti diversi, perché questo è importante. Magari non seguiamo tutti la stessa tabella, loro soprattutto sono campioni con un allenatore veramente con la maiuscola, però cercano di allenarsi insieme, stimolarsi, e questo è fondamentale. Una cosa di cui parla Yiddens fin da subito è la tattica, cioè soprattutto negli Ironman ad alti livelli, la tattica, non dico che equivale quanto come la forma fisica, ma è veramente importante. Lui dice, un conto è perdere una gara per una prestazione scadente, un conto per una tattica debole, una tattica sbagliata, e quindi lui parla di come nella frazione finale della corsa, nella maratona, ha dovuto lasciare andare Bloom in effetto inizialmente e poi prendere lui le redini in mano. Quindi queste tattiche veramente interessanti che magari da spettatore uno non vede. Poi ha parlato di come il livello si sta alzando, cioè in 10 persone sono andati sotto le 8 ore a campionati al mondo. Una volta alle 8 ore era visto come il tempo top, il tempo in cui solamente magari il primo. Adesso in 10 sono andati sotto le ore. E questo comunque si sperimenta un po' tutti, anche gli amatori. Vediamo che magari una volta con quei tempi uno arrivava in certe posizioni e adesso comunque ci sono nuovi giovani, nuove tecnologie. C'è sempre più gente in questo sport e quindi il livello si sta inevitabilmente alzando. Poi gli è stato chiesto, ok adesso che hai vinto l'Ironman, Yiddens cosa fai? Ti riposi? No ma che tra due settimane c'è un mezzo Ironman, i campionati del mondo. Quindi vabbè questo diciamo è il suo lavoro, però vi fa capire quanto è importante avere sempre la testa focalizzata. Cioè loro dopo l'Ironman ha vinto Yiddens e Christian è arrivato terzo, avrebbero potuto far festa invece hanno fatto mezzo Ironman e adesso hanno fatto anche le VTS, le finali di VTS da Abu Dhabi insomma. Allora poi c'è da dire che Eden viene dal ciclismo mentre Blumenfeld dal nuoto, quindi diciamo loro hanno un passato diverso, però entrambi sono molto forti in bici e questa è una cosa che magari manca come cultura nel triathlon. Si sottovaluta un po' la frazione di bici, soprattutto nelle gare con la scia, viene vista un po' come una fase di transizione, in realtà veramente fondamentale e comunque negli anni stiamo dando più importanza a questa frazione, lo vediamo che adesso si riesce a vincere anche le gare non solo con la corsa finale ma anche con una frazione di bici discreta. Poi gli viene chiesto ma qual è la magia per andare così forte? Cioè come vi allenate? Questa è un po' la domanda che ci facciamo tutti, ma cosa fanno? Chissà quale cose che allenamenti faranno, dove vanno? Magari più maliziosi che prendono? Diciamo sono tutte domande che uno si può fare. Stiamo parlando di livelli pro, quindi diciamo un mondo completamente diverso, ci sono tanti aspetti che uno non si immagina neanche io stesso, diciamo se uno non vive il livello pro non può magari giudicare alcuni aspetti, però quello che hanno detto in poche parole è che loro si sono allenati come dei professionisti da quando hanno 14 anni. La nazionale orvecese era già improntata ad esempio per Parigi 2024. Cioè loro, il loro percorso, il loro piano di allenamenti era focalizzato lì. Loro dicono che non gli interessava vincere magari la Coppa del Mondo Junior a breve termine o campionato norvegese Junior, ma avevano già un'impostazione a lungo termine. E questo è una mentalità veramente tutta di rispetto che forse oggi sta un po' scomparendo, un po' in tutti gli aspetti. Io parlo per me, diciamo, si cerca di avere il risultato subito, subito, in realtà no. Bisogna andare a lungo termine, ovviamente non appoggiarsi sugli allori e dire, ah beh, lungo termine, fra dieci anni diventerò campione. No, lavorare duro fin da subito, per tutto il tempo e poi avere un obiettivo lontano, ma lavorare costantemente. Loro hanno detto che la nazionale norvegese è veramente selettiva, un sacco di atleti hanno mollato perché lì o diventi un campione o veramente ti tronca, non c'è niente da fare per supportare certi carichi di allenamento, per diventare forti come loro, c'è veramente da spingere tanto e sempre fin da quando sono piccoli. Non c'è un trucco magico, niente, è solo dedizione e sudore. Ragazzi, se questo video arriva a 300 mi piace, sì, nel primo mese proverò a allenarmi un giorno come Eden o Blumethead, mi vedrete soffrire come loro per un solo giorno, quindi a partire da tutta la giornata, quindi l'allenamento e tutti gli aspetti extra che chi cerca in rete. Allora, loro poi parlano di questa ex-philosophy, la filosofia delle uova, e mi ha colpito, ve lo voglio dire, cos'è questa filosofia delle uova. In pratica la squadra norvegese dice, ok, noi siamo come prendere un cestino di uova e tirarlo contro il muro, quelle che rimangono intatte sono i nostri atleti. Cioè, più chiaro di così non esiste. Un altro aspetto un po' tecnico, però ve lo voglio dire che io ho visto, magari seguendo sui social, sia Blumethead che Eden, loro fanno molti test del lattato e per chi non lo sapesse, si tratta di prendere una goccellina di sangue dall'orecchio di solito e misurare quanto acido lattico abbiamo nel sangue. Per questo argomento, se interessati, faremo magari un video più tecnico con una persona competente, però in poche parole loro riescono a capire quanto possono ancora tollerare di allenamento, quindi è un parametro che dice quanto sto spingendo e quanto ne ho ancora, quindi lo utilizzano veramente tanto e effettivamente è molto utile perché si vedono poi i risultati. Un altro aspetto di cui loro trattano molto è quello dell'allenamento in altura. Si allenano spesso in Sierra Nevada a 2.300 metri di quota e questo è un aspetto importante. Cioè, tutti i teleprofessionisti si allenano in quota perché è scientificamente provato che ne migliora la prestazione. Perché è per commento l'emoglobina, i globuli rossi, quindi quando scendiamo poi al livello del mare abbiamo una marcia in più rispetto agli altri. Un'aneddota importante è che dicono che ad esempio Blumenfeld tollera meno l'altura rispetto a Eden, quindi quando vanno lassù Eden riesce a fare un po' più da padrone su Christian, però diciamo sono aspetti interessanti ma entrambi si allenano veramente tanto in altura. Un aspetto importante è che il loro allenatore, Olaf si chiama, pianifica gli allenamenti veramente in anticipo. Cioè, lui programma addirittura allenamenti proprio dettagliati sei mesi in anticipo. Quindi lui ad esempio, siamo ad esempio a dicembre, sa a giugno, maggio che allenamento faranno, proprio specifico. E addirittura c'era Christian che diceva che a volte arrivano in un allenamento e non capiscono il perché di quell'allenamento. Lì per lì neanche allenatore dicono, ma come mai dobbiamo fare 10 da 400 quando domenica c'è la gara? E lì per lì l'allenatore magari rimane anche lui dubbioso, ma poi rivedendo tutto lo schema generale dice, ah, ecco, ecco il perché. Però questa visione a lungo termine gli permette di fare dei programmi veramente, veramente top, veramente scientifici e strutturati al meglio. Allora, loro utilizzano anche molto un sistema per il controllo del glicogeno e loro cercano di avere il glicogeno più stabile possibile e lo utilizzano anche in gara, questo parametro, per la nutrizione. Non c'è una regola. La regola è mangiare il più possibile che si riesce a tollerare. Cioè, lui è stato chiarissimo. Ovviamente mangiare gel e barrette può portare a dei problemi gastrointestinali. Quindi bisogna anche allenare l'alimentazione, quindi fare molta attenzione a questo aspetto ma più uno riesce a tollerare è meglio sarà la prestazione. Quindi come ho provato io nelle mie gare nel mezzo Ironman che ho fatto più uno riesce a mangiare, senza ovviamente avere problemi, poi il serbatoio sarà più pieno. E poi l'intervistatore gli fa, ma come mai durante la corsa ogni 10 secondi guardavate il passo? Questo lo farete anche voi, lo faccio anche io. In realtà serve per avere una self-confidence, essere confidenti del proprio stato quindi sapere come stiamo andando e essere sicuri di noi stessi. Un altro aspetto importante, curioso, è che loro addirittura in gara utilizzano oltre alla fascia cardio anche il sensore di temperatura corporea interna. Cioè chi è che utilizza il sensore di temperatura corporea interna? Loro. Perché dicono che è un parametro veramente importante perché non riusciamo a percepire bene questo valore a differenza di quello che uno può pensare. C'è Christian che fa un esempio, dice se io passo da 37 a 38 magari mi sembra che sono super accaldato e magari se io passo da 39 gradi a 38,8 sembra che io abbia freddo. In realtà nel primo caso sono a 38 gradi, nel secondo a 38,8. Quindi è una percezione difficile da capire. e loro utilizzano questo sensore, se non sbaglio, abbinato con la fascia cardio che gli permette di capire magari quando bagnarsi o comunque prendere un po' di ghiaccio per abbassare la temperatura o magari non fare niente perché siamo già stabili. Ovviamente loro parlano anche dell'importanza della posizione da crono e notiamo comunque dalle immagini e dai video che Gustav Hedden ha una posizione molto più da crono ma in da ciclista. Infatti come ho detto, lui viene dal ciclismo quindi ha già un assetto diverso. Mentre Blumenfeld ha un assetto un po' più alto sta un po' più alto quindi lui ha detto che ci sta più comodo e comunque gli preserva anche un po' le gambe per la corsa dopo. Quindi l'assetto è molto personale ragazzi investiteci lo consiglio perché magari è inutile avere bici super costose e poi una posizione sbagliata. Magari risparmiate 100 euro da un'altra parte però fate una visita specializzata di biomeccanica. E poi viene fatta una domanda molto interessante e semplice ma cosa consigliate a un amatore? Qual è il primo consiglio che vi viene in mente? Allora loro all'inizio sono un po' indecisi si guardano tra di loro se vedete l'intervista è molto divertente e alla fine sono molto semplici la risposta. Prima di tutto dicono che il sonno è importantissimo cioè è inutile allenarsi tanto e poi magari andare a letto la sera a mezzanotte l'una e poi la mattina magari uno lavora alle 7 si alza diciamo dedicare quelle ore di sonno anche loro fanno tanti pisolini ovviamente loro non lavorano, fanno altro quindi il riposto è veramente fondamentale però l'hanno messo al primo posto dicono ma fare un massaggio può essere aiutante può essere d'aiuto per un amatore dicono sì ma io per volte preferisco stare sul divano o guardare un film quindi diciamo se non lo fanno loro poi ovviamente ha le sue funzionalità lo fanno tutti, lo faccio anch'io però ecco quanto è importante il sonno Blumenfeld lo ripete tante volte durante l'intervista quindi un motivo ci sarà poi gli viene chiesto la giornata tipo e loro dicono non hanno una giornata tipo ovviamente dipende, comunque sveglia alle 7 e mezzo poi vanno subito a nuotare di solito nuotano la mattina loro all'8 e un quarto sono già in acqua e si fanno la loro retta e mezzo di nuoto e poi in genere magari fanno il secondo allenamento subito in tarda mattinata pranzo, poi pisolino fino alle 3, le 4 pomeriggio e poi l'allenamento serale quindi girano su 2-3 allenamenti al giorno come standard quindi è veramente impressionante io diciamo nel mio passato ho fatto raduni in altura con la squadra questa era la routine l'ho provata anch'io e per chi piace allenarsi è veramente bello non c'è da pensare a niente se ti svegli ti alleni, ti riposi, ti alleni, mangi e io insomma vi consiglio di provare una volta nella vita diciamo la vita da pro è dura però se ti piace allenarti è il tuo per chiudere questo video vi voglio dire che la loro mentalità è veramente di un altro livello si vede che c'è una propria fame di vincita cioè l'ultima cosa che ha detto Eden non è stata oh sono campione del mondo, non è che sei rattirata ha detto no io sono rimasto deluso dall'Olimpiadi di Tokyo e già penso a Parigi 2024 quindi loro un obiettivo poi archiviato pensano subito a quello dopo quindi è veramente una mentalità stupenda e le stanno veramente dominando il mondo del triathlon e chissà di quante ne vedremo ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto come sempre lasciate un bel like al video scrivete nei commenti qualsiasi cosa che vi venga a mente riguardo ai loro allenamenti o altre curiosità che sapete voi che non ho detto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao